Ad incastrarlo sono state le immagini delle telecamere a circuito chiuso della banca, che lo hanno immortalato a volto scoperto nelle fasi precedenti al colpo. È stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Barletta, dopo pochi mesi di ricerche, l'autore della rapina avvenuta nel dicembre scorso nella filiale della banca Unicredit di B. Enrico Fermi. Si tratta del 25enne tranese Emanuele Lomolino, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Con il volto coperto da una calza di nylon e armato di taglierino, l'uomo aveva atteso l'uscita di un cliente dall'istituto di credito per entrare nel bussolotto di sicurezza e quindi introdursi nella banca. Una volta dentro, il rapinatore si è diretto verso l'unico sportello ancora operativo, obbligando il cassiere a consegnargli 1.500 euro in contanti, per poi costringerlo a seguirlo sino all'uscita, così da guadagnarsi la fuga in tutta sicurezza. Scattate le indagini, gli uomini del commissariato di Berletta hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso installato presso l'istituto di credito. Le immagini hanno consentito di risalire in poco tempo all'identità dello sprovveduto rapinatore, rimasto diversi minuti a volto scoperto all'esterno della banca, in attesa del momento opportuno per farvi irruzione. Nei suoi confronti, il GIP del Tribunale di Trani, Francesco Zecchillo, ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere, su richiesta del PM Michele Ruggero, che ha coordinato le indagini. L'uomo dovrà rispondere del reato di rapina aggravata.